E' stata una sconfitta pesantissima quella che l'Olimpia agnonese ha maturato al Civitelle contro il San Nicolò. 3-4 il risultato finale in un match che i Granata hanno giocato solo nel primo tempo, lasciando troppo spazio nella ripresa agli ottimi avversari abruzzesi che ne hanno approfittato. Ma andiamo alla cronaca. Il primo squillo arriva all'ottavo minuto di gioco ed è di marca Granata. Cantoro su punizione, effetto a un tiro centrale che Digifico devia in angolo. E' proprio su quel corner che Seolin si fa trovare pronto nel cuore dell'area per infilare la rete del vantaggio. Al decimo De Santis tenta di rispondere con un tiro rasoterra ma il palo gli dice di no. Al sedicesimo la risposta arriva davvero. Ci prova Chiacchiarelli, Biasella respinge ma non blocca, ne approfitta De Santis ed è 1-1. Al ventinovesimo ancora un palo a fermare gli abruzzesi. Stavolta è di Chiacchiarelli che lo becca su punizione. Al trentesimo la punizione la guadagna Lagnone. La batte Di Lullo, Natalini riesce a bucare la rete. Ma la sua posizione è irregolare, così come il gol. Al trentatresimo il San Nicolò passa in vantaggio con un supersinistro dal limite dell'area di Chiacchiarelli. Al trentasettesimo Mozzoni commette fallo su Di Lullo in area. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna il rigore per i padroni di casa. Al dischetto va a Cantoro che non sbaglia. Il primo tempo si chiude dunque con il risultato di 2-2. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa e sull'Agnone arriva una tegola. Ricamato commette fallo ai danni di Gabrielli ed in virtù del doppio giallo è costretto a raggiungere gli spogliatoi anzitempo. Il San Nicolò da parte sua non perde verve e tenta il tutto per tutto per conquistare la vittoria. Ci prova al diciottesimo con Moretti ma Paolo e Biasella gli dicono di no. Al ventiduesimo sugli sviluppi di una punizione Biasella sbaglia l'uscita. Ne approfitta De Santis per infilare il gol del 3-2. Al trentaduesimo ancora un erroraccio dell'uno di casa complice stavolta anche Lattarulo e Moretti a porta sguarnita firma il 4-2. L'Agnone con un filo di energia e quella tipica punto d'orgoglio che si ritrova accorcia le distanze al 42esimo con un gol di Serrone dal limite dell'area. Ma non c'è abbastanza tempo per fare molto altro e il risultato finale rimane sul vantaggio degli ospiti. Il duro colpo per l'Agnone che conta sulle vittorie di casa per salvarsi viene attutito almeno dai risultati degli altri campi che lasciano la classifica pressoché invariata.